buongiorno sono le 5 del mattino stiamo andando a Catalina per quattro giorni le bambine saranno a santa cruz, no santa cruz sacramento quattro giorni quindi erano già buio frescolino al mattino andate per spazio quindi prepariamo due cosini, computer, tutto let's go grazie a tutti buongiorno buongiorno ciao ciao siamo pronti stiamo aspettando che arriva un omino stanno dormendo in barca David no, sveglio si via alle 5 del mattino è un pazzo sarà un weekend molto tranquillo perché siamo solamente in 4 o 5 con me andiamo per una mostra d'arte e sarà molto divertente ti spero mi piacciono questi viaggi un po' relax fanno bene è sempre bello stare fuori in barca così tutto a posto, ho già controllato tutto ora ci fermiamo un attimino a fare un po' di benzina un po' di gasolio come si dice dopodichè prendiamo l'oceano andiamo dritti a cattolina e adesso i ragazzi eh 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 queste sono mattinate magnifiche ragazzi fantastico uff, partire così fa già bene eh 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 Bello oceano oggi molto 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 no non mi ha ancora detto cosa andiamo a fare Cattolina e Cattolina c'è praticamente questa mostra d'arte e un amico di David che è un pittore fa un show, è bravissimo fa queste cose un po' strane bianco e nero incredibile veramente un dono, e poi vi farò vedere qualcosa un po' particolare divertente, siamo a Catalina in 45 minuti un'ora più o meno in PS, dice 45 49 minuti non male andiamo, ciao buongiorno a tutti quanti oggi è venerdì non so quanti venerdì sono indietro ma quando vedete questo video sarà già un altro venerdì in ogni modo, Catalina, secondo giorno abbiamo lo show di questo amico di David lui arriva dall'Argentina è un personaggio molto interessante bravo, veramente bravo è incredibile quindi è qua per fare arti live puoi fare uno show live in più per vendere le sue cose le sue arti Catalina, ragazzi mattino, bellissimo ho dormito fantasticamente veramente quindi noi andiamo a Catalina e vi faccio vedere questo magnifico show ciao è pronto ora si farà uno show fra un paio d'ore una show live qui davanti questo mercatino di artisti bravi bravi veramente bravi tantissimo che non cammino all'interno di Catalina un sacco di golf troppo rivisitarlo ogni volta è una sensazione unica bellissima prima giornata di Catalina bellissima molto bello nonostante oggi praticamente non ho fatto nulla dopo la prima show che ha fatto Mark sono tolto qua in marina qua in barca non è bello mai lasciare una barca così custodita anche se è comunque sicura non per l'ancoraggio ma proprio perché comunque il generatore poi avevo uscito solo un generatore acceso non due se comunque si spegne il generatore uno dei generatori e quello che è acceso sono i problemi quindi è sempre meglio essere qua nel senso che purtroppo sono solo è sempre meglio essere qua e controllare la barchetta domani facciamo un altro show e poi dopo di che penso che torniamo a casa verso sabato Nicola è arrivata a Sacramento quindi tutto a posto il volo è andato bene fantastico ragazzi cioè normalmente veramente questo è il periodo dell'anno dove si vede la costa non so se la vedete si vede la costa di Long Beach e c'è una pulitissima non ci sono nuvole non c'è foschia quindi è molto 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 aperto il senso pulito il cielo bellissimo bellissimo quindi ora mangiamo qualcosa voi li guardate voi li guardate i miei video con le cuffiette o comunque con un sistema audio guardate perché comunque cambia fa la differenza anche se avete un cellulare usate le cuffiette provate si sente tantissima la differenza molto andiamo a mangiare ci sentiamo dopo ciao 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 So what do you think? It's perfect, look at yourself. Did you like it? Yeah. You're welcome to stay in the boat. 6.30am ragazzi, parlo pieno perché stanno dormendo. Oggi prendiamo il telecomando. Mattinata stupenda come al solito. Tutto a posto, tutto a posto, tutto a posto. Siamo partiti. Tutto a posto, in direzione giusta. All right. Andiamo di sopra. Ci gustiamo il paesaggio da sopra. Bellissimo, bellissimo. Ah e quindi ragazzi, tornando a casa, dopo 5 giorni di Catalina intensa, si torna a casa. Spingiamo un pochettino, arriviamo ai 20, 22, nodi e sono le 7, meno 20, 9 e un quarto, siamo in Marina del Rei. Ah, bellissimo. Andiamo. Sto consumando 40 galloni per motore, quindi 80 galloni all'ora, 300, quasi 360 litri all'ora. Stiamo andando a una velocità di 19 nodi orari. Non male per un 92 piedi, non male. Poi, 5 giorni sono passati, non vedo l'ora di vedere lei nell'Emilia, Nicole e poi c'è anche mamma di Nicole a casa, quindi sono più tranquillo. Nicole si può un po' riposare, prepararsi per il mese prossimo, quindi siamo molto vicini alla data d'arrivo della nuova arrivata. Allora, prossimamente vi dirò il nome di Belle, dai, sono contento. Ora mi sparo un paio di giorni off, così sistemo un po' di cose con la macchina, Vanderhall. Rifare un po' il discorso del noleggio del carrello, perché adesso sto solamente pubblicizzando ogni singolo macchinario, quindi non il carrello intero. La mia idea era quello di noleggiare il carrello così pieno di attrezzatura, quindi questi due giorni mi organizzo, non c'è nessuno in giro. Non male. Ci sono un po' di nuvole sopra Maria del Rey, non mi sembra sia nebbia. Proprio nuvole del mattino. Appena siamo partiti è arrivata la Navala Crociera. La vedo lì che sta approcciando Avalon. Andiamo avanti. Ciao. Riempito l'acqua, controllato i livelli, chiedato una sciacquata, pronti per andare a casa. Bello, è stato bello, cinque giorni divertenti, cinque giorni di relax, proprio. Sempre da fare comunque quando si è in barca, però quando si è così in pochi è bello, divertente. Ci vediamo domani. Andiamo, ciao. 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 Ciao.